Buongiorno a tutti, buonasera a quest'ora. In questo video vorrei parlarvi della parallasse annua o parallasse astronomica. Probabilmente sapete che cos'è il termine parallasse. Quando eravate a scuola avete studiato l'errore di parallasse che ci richiede di osservare uno strumento di misura frontalmente il più dritto possibile altrimenti andando a piegare leggermente lo sguardo io vado a commettere un errore che è detto appunto errore di parallasse. Il termine parallasse esiste anche in astronomia e guarda caso è un fenomeno che viene utilizzato moltissimo per determinare la distanza delle stelle ed è una prova quindi che viene ritenuta una delle prove regine per dire che la terra è un globo. Quindi se esiste questa parallasse annua la terra è un globo e quindi dobbiamo andare a valutare che cos'è effettivamente questa parallasse annua. Ebbene a causa consideriamo in via teorica che la terra sia un globo e che ruoti attorno al sole. A distanza di sei mesi la terra si trova in due punti opposti rispetto al sole siccome la scienza ci dice che la distanza della terra dal sole di 150 milioni di chilometri circa in realtà poi questa distanza varia in base all'anno la situazione in cui ci troviamo comunque a distanza di sei mesi più o meno ci troviamo ad una distanza di 300 milioni di chilometri. Quindi se noi guardiamo su una stella e la guardiamo a distanza di sei mesi la guardiamo da due punti diversi da due posizioni diverse e quindi guardando sei mesi prima guardando sei mesi dopo la stella ci apparirà essere in punti leggermente diversi a causa della posizione differente della terra. Più è lontana la stella più la parallasse annua sarà piccola più e vicino sarà grande. Quella relativa alla stella più vicina cioè proxima centauri è stato calcolato misurato essere di 0,75 secondi di grado. In pratica queste stelle farebbero un'ellisse una piccola ellisse proiettata sulla sfera celeste e l'angolo dei due punti più distanti, l'angolo formato dai due punti più distanti di questa ellisse per proxima centauri sarebbe 0,75 secondi di grado. Quanto è questo angolo? Voi pensate a un grado, due tacchette vicine del gliogoniometro che usavate a scuola, dividetelo ancora per 60 volte troverete quanto è grande. Un primo, prendete un primo, lo dividete altre 60 volte e trovate quant'è un secondo. Quello non basta ancora, non è ancora piccola sufficienza per definire la parallasse più grande misurabile per la stella più vicina che è 0,75 secondi di grado. Quindi capite quanto è piccola questa misura. Quindi la prima cosa che mi viene in mente è, ecco, c'è un modello che è quello del globo, che è quello che ha venduto la scienza e ci sono poi dei calcoli teorici, perché gli scienziati i calcoli li sanno fare, che ci dicono, esistono e sostengono il modello, con la sicurezza che nessuno di noi sarà in grado di andare a misurare un angolo così piccolo. C'è poi un'altra considerazione da fare. questo movimento non tiene conto invece del fatto che anche il sole si muove. Quindi la terra si muove attorno al sole, mentre il sole si muove nella galassia. Quindi, più che un'ellisse, noi si dovrebbe vedere una spirale a causa di questo movimento. Eppure di questo gli astronomi non tengono conto. A questo punto ci si chiede se davvero questa parallasse esiste. Eppure dicono che l'hanno misurata. Il primo a misurarla è stato addirittura nel 1837-1838. Bessel, a Königsberg, misura la parallasse annua della stella 61 Cigni. E da lì è stato usato poi un metodo sempre più affinato. Dicono che utilizzano un metodo fotografico. In pratica fanno la foto alla stella in atemi diversi durante l'anno. Confrontano la sua posizione proiettata sulla sfera celeste con quella di stelle molto lontane, più lontane, dicono, e che quindi hanno una parallasse praticamente nulla. Quindi, confrontata la posizione di questa stella rispetto a queste stelle che sono più lontane e quindi più fisse, più ferme sulla sfera celeste, riescono ad andare a misurare l'angolo di parallasse. Però io mi chiedo come è possibile andare a misurare un angolo del genere quando l'angolo, per esempio, di aberrazione luminosa, di cui parleremo in un prossimo video, e che forma di nuovo un altro piccolo ellisse, ma decisamente più grande di quello della parallasse, si sovrappone a questo durante l'anno. Quindi, come fanno a eliminare l'aberrazione luminosa? Eh, devono fare un calcolo teorico. Però con i calcoli teorici capite che facciamo venire tutto. E poi a questi due ellissi, l'elisse dell'aberrazione è più grande, infatti si parla di decine di secondi di grado. La parallasse è inferiore a un secondo di grado. E poi c'è un altro ellisse che si sovrappone ancora a questi durante l'anno, che è l'ellisse dovuta alla rifrazione, perché durante l'anno la temperatura dell'aria varia da un minimo ad un massimo. Questo determina una differenza di densità nell'aria che costituisce l'atmosfera, e quindi la luce che arriva a noi dalle stelle viene piegata con angoli differenti. Questo si chiama rifrazione, anche questa forma un'ellisse, ancora più grande, perché qua si parla di primi di grado, quindi 60 volte più grande, e anche questo si sovrappone a questi altri due ellissi. Come fanno quindi a togliere la rifrazione, a togliere l'aberrazione? Come fanno a misurare un angolo così piccolo quando il sole si muove nella galassia a velocità inimmaginabili, e loro riescono a misurare un angolo inferiore al secondo di grado? È evidente, è evidente che si può dire qualsiasi cosa quando si va in quelle minuzie, perché semplicemente si fa un calcolo teorico a sostegno del modello matematico che parte da Pitagora, che è quello della Terra globulare, e si può dire, si può vendere qualsiasi cosa a noi semplici cittadini che non avranno mai la possibilità di misurare un angolo così piccolo. Abbiamo quindi parlato del Parallassa, nei prossimi video parleremo di altri aspetti, in questi video iniziali purtroppo dobbiamo distruggere, distruggere il modello del globo, piano piano arriveremo al momento in cui, grazie a formule matematiche solide, alla scienza vera, arriveremo a costruire invece un modello più solido di terra piatta e lì sarà più interessante ancora. Io vi ringrazio molto, questo era il mio quinto video, abbiamo parlato della Parallassa, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale. Ciao!